È la prima volta per me a Fiera Cavalli e devo dire grazie a Luca che sono stata invitata comunque per Class Horse TV oggi ed è stata una cosa molto divertente. Verona ovviamente? No, no, certo. Diciamo che io ormai vivo da anni a Verona, ho comprato casa qui e devo dire che la mia città ideale e il mio equilibrio proprio degli allenamenti, della vita in generale è qui, quindi sono molto contenta. Vado ogni tanto a cavallo quando posso e mi ispirano proprio questo senso di libertà assoluta, quindi per me è una cosa molto emozionante essere qui oggi e di cui sono molto contenta.